Siamo detriti, relitti umani, trascinati da un fiume in piena che non conosce soste né destinazione. La nostra mente, le nostre azioni sono la causa, gli effetti invece il nostro destino, ciò che deve accadere accadrà, qualunque cosa facciamo per evitarlo. Ciò che deve accadere accadrà perché è già accaduto. Eri con me, ma io non ero con te. Sei con me, ma io non sono con te. Ero con te, ma tu non eri con me. Viviamo nell'impermanenza, nell'incertezza della vita condizionata, ma ci ricorderemo di noi segretamente. Arriverà il giorno atteso a schiudere gli impediti passaggi. Prepariamoci a nuove esistenze. Eri con me, ma io non ero con te. Sei con me, sei con me. Ma io non sono con te. Ero con te, ma tu non eri, non eri con me. Ero con te, ma tu non eri, non eri con me. Grazie a tutti